ciao a tutti da willys eccoci ancora insieme per una nuova gara con la renault 5 turbo 1 modello 1 tutta allargata tutta bombata renault turbo 1 perché esiste anche la renault turbo 2 esiste ma questa qui è la turbo turbo 1 no la 3 non l'ha fatta spluffete ecco una panoramica della macchina bellissima gli hanno fatto una bellissima questa qui che stiamo usando adesso da molto tempo tempo fa che era di 3 ok andiamo a partire via partiti ok mettiamo un po il sound della macchina un attimo di silenzio apre su crinale e dossi in quattro sinistra non tagliare tornante a destra in cinque sinistra macchina difficilissima da guidare anche perché ha un gran motore a ea trazione posteriore è veramente difficile da guidare se esageri col gas vai subito fuori speriamo di non distruggere anche questa e tieni la destra e non tagliare quattro sinistra in cinque destra in cinque destra trenta l'importanza è anche aia 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 siamo andati a tre sinistra sei destra trenta su dorsi la roccia e davanti a trenta la roccia c'è però se sono omicidiali anche perché la strada il percorso è molto stretto sono molto resistenti queste cavoli rocce al contrario delle macchine trenta e questi discorso la vita italiana tornate aperto a sinistra cinque destra lunga stringe e qua in argentina i percorsi sono molto 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 stretti trenta non visto tornate a sinistra apre vediamo un po se riusciamo a fare una gara decente o ci schiantiamo anche questa volta aia qui c'è andata bene c'è andato solo fatto in tempo a rallentare siamo siamo abbiamo strisciato sulle barca non so destra lunga stringe uno sinistra ruffa te senti il motore come si arrabbia devi dare gas piano piano stringe uno senti come si arrabbia aia esagerato si è girata si la ruota da sola no si è girato vedi che mi sono intraversato perché è un attimo è questa gara sarebbe e la fine dove dove la giù la sopra ok vuoi dire che la sopra e la fine è la morte ok nel burrone intendi si è specifica bob ma scusa sprufate c'è sbagliato ho avuto un attimo di annesia 5 destra non tagliare 5 destra lunga stringe 1 a 2 sinistra un po troppo forti Eh, non è facile da guidare con la macchina. Sì, direi anche... Uno di questi giorni te lo farò provare, così ti rendi conto. Willi, Willi, queste volte, quando fai video, sbagli nome sull'altro, che è il tuo bambino. Eh, ma quello non sono io, sei te di solito. Sì. Eh, questo qui sono io che parlo. Senti come si incazza l'autore. Sì. Saco si incazzato questa volta, di cento si incazzato questa volta, eh. Era un po' meno roccia, ho potuto dare un po' più di gas. Hai sentito come urla? Sì. Senti come il gomma. Finita la prova col botto. Sì, abbiamo... Ahia. È stata una bella partita questa. Ce l'ho fatta schiantarmi anche dopo il traguardo. Oddio mio, povera macchina, guarda il muso. Siamo arrivati dal commissario. Ma è stata una bella... Ce la faremo, ecco. Uh, poverina. È stata una bella gara questa volta. Col botto. Sì. Sì, è stata una bella gara, ma quella di prima era... Sta per finire la puntata. Sì. Quindi diamo un saluto a tutti. Sì, ciao da Willis e Sploof e da un altro video. E salutiamo ancora i nostri amici Andrea Innocenti. Ciao. Alessandro e Tamburini. Ciao. 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 Grazie a tutti.